Dalla libro di Sergio Pollina, i nostri amici testemoni di Geova, mi piace leggervi uno stralcio, cioè la parte del libro che dedica alla trattazione su palo o croce. A chi è abituato a leggere un normale Vangelo, l'espressione che costituisce il titolo di questo capitolo potrà sembrare un po' strana, prendi il palo, sembra che possa più riferirsi ad un addetto alla costruzione di una staccionata che non è Gesù Cristo, oppure è proprio così che la traduzione biblica usata dai testimoni di Geova fa parlare il Signore in Matteo 16,24. Al posto delle parole, se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua, nella traduzione del Nuovo Mondo delle Starche Scritture troviamo, prenda il suo palo di tortura e mi segua. Come mai i testimoni hanno ritenuto di operare un cambiamento del genere, quando nessuna traduzione al mondo, nessuna traduzione al mondo, è vero, si sognerebbe mai di rendere così l'originale termine greco stavros, o secondo la pronuncia bizantina stavros. Facciamo un passo indietro e seguiamo il nostro amico proclamatore, mentre fa il suo ingresso nella casa della persona, che dopo aver accettato lo studio biblico, adesso è arrivato al capitolo in cui si parla della croce. Le viene chiesto di leggere le parole iniziali del paragrafo a pagina 141 del manuale di studio, che così dicono. Molti frequentatori di chiesa portano una croce o hanno in casa un crocifisso e croci si trovano in molti edifici religiosi, ma sapevate che la croce è in effetti d'origine pagana? Il passo successivo è di verificare assieme a lui se in casa ci sono croci o raffigurazioni d'essa e di procedere immediatamente alla loro distruzione, anche se si dovesse trattare di oggetti realizzati in meridio e prezioso. Quindi via la croce della catenina, che si porta al collo, si dai tempi del battesimo, della prima comunione, via quel pregevole quadro del soggiorno all'argomento religioso, l'affigurante Gesù sul gogo, e via tutto quello che contiene anche un pallido accenno con l'oggetto di cui si è adesso scoperta l'origine pagana. Poiché ormai il programmatore che da mesi spuisce il simpatizzante sulla dottrina del giovismo ai suoi occhi è innegabilmente diventato un'autorità in materia di storia biblica, e lì non si sogna nemmeno di porgli alcuna domanda, né avrebbe motivo di farlo, perché probabilmente, come quasi sempre accade, non sa niente della storia remota dei testimoni di Geova e, o di essa, sa soltanto quello che l'organizzazione vuol fargli sapere. Ecco che l'indomani mattina, seguente alla sera in cui il neofita ha scoperto di aver tenuto in casa un'arma del demonio, non è infrequente che il povero curato di campagna, il pargo della chiesa vicino a casa sua, si sentono interpellati da un adirato signore che li accusa di averlo sempre ingannato, non rivelandogli la verità sullo strumento di tortura di Cristo, e che inoltre li informa che da un momento in poi non si aspettino più di vederlo frequentare una chiesa che insegna dottrine pagane. E se il malcapitato sacerdote osasse chiedere il perché di tutto questo, sarebbe inondato di citazioni del greco, nelle quali è inframenzata di frequente la parola stavros, oppure il termine xilon, o dà riferimenti a Omero, a vari dizionali greci, alle migliori concordanze e a qualche versione interlineale della Bibbia. Prima che il povero curatore d'anime riesca a riprendersi, il suo interlocutore vittorioso e soddisfatto di avere le cantate quattro, se ne va. Solo più tardi, a mente serena, il povero uomo si ricorderà che quel suo ex parrocchiano è riuscito a completare soltanto le scuole elementari, che era noto per le sue eterne difficoltà a mettere d'accordo condizionali e congiuntivi, e che l'unica lettura del neo erudito era, una volta alla settimana, la Gazzetta dello Sport. E adesso, se lo è ritrovato, lettore e intenditore di lessico greco è in grado di discettare sull'origine delle parole. C'è da perdere la testa? Cos'è accaduto in sì poco tempo da trasformare quel brutto anatroccolo in uno splendido cigno della cultura? Desideriamo tranquillizzare il nostro buon curato. Nessun sortileggio, solo un miracolo, dovuto a quel fenomeno di cui ci siamo occupati nel capitolo precedente e che si chiama condizionamento mentale. È accaduto che quella persona è entrata in quel vortice di novità di cui i testimoni di Geova lo rimpinzano di giorno in giorno e senza le quali non si sentirebbe soddisfatto e delle quali ha bisogno, per sentirsi sempre più motivato, al distacco dall'odiata a Babilonia la Grande, la Chiesa Cattolica, per abbandonarla senza rimpianti. Non potete leggere tutto, vado un po' avanti. Orbene, facciamo un passo indietro di alcuni decenni e arriviamo sino al 1891. Esattamente in quell'anno il fondatore, Charles Stice Russell, arricchì la copertina della rivista, che ora è stampata 15 milioni di copie, allora, quando scriveva Pollina, e in 120 lingue, con una splendida croce che campeggiava in scritta all'interno di una corona regale. E non solo, è tanto importante il simbolo della morte dell'entrice per cui i primi studenti, che ognuno di loro, a cominciare dal fondatore, abbelliva il bavero della propria Redingoth con uno spillo chiamato proprio croce e corona. Vado sempre un po' avanti. A questo punto si impone una riflessione. Come è mai possibile che Charles Stice Russell, scelto da Dio per ripristinare la pura adorazione, unico del suo tempo a capire che la Trinità è un arnese da buttare via, l'unico a capire che il 1914 era la data fissata da Dio, ma in realtà abbiamo visto che gente della cristianità la cristianità l'aveva indicata prima di lui, questo assessatore riguardi, se andate a vedere nella letteratura lo dice, per la cerimonia di conferimento del regno a suo figlio e per far iniziare il conto alla rovescia della fine del mondo, come mai è possibile che proprio su questo particolare così importante l'onnipotente avesse trascurato di formare il restauratore del credo e l'avesse fatto vivere per tutta la sua vita e per altri sedici anni, i suoi seguaci, immerso nell'adorazione, potremmo dire, di uno strumento infamante e pagano. Cominciò a dire che Charles, carissimi, sapeva benissimo che la croce, la cara, la vecchia croce, due bracci, non l'avevano inventata o scoperta i cristiani, ma risoriva alla notte dei tempi, quando forse non esisteva nemmeno il popolo di Israele. Tanto è vero che in vecchio numero della Torre di Guardia del 1896, a voi non accessibile, perché la Torre di Guardia ha caricato le Torre di Guardia, appunto, e questa è vista solo dal 1950 in poi, sul sito, egli aveva scritto a chiare lettere, esso, il segno della croce, cioè era in origine parte di una cerimonia pagana e non cristiana, poiché sebbene la X, che costituisce la lettera iniziale del nome di Cristo, divenisse ben presto un simbolo cristiano, la croce a forma di T, originalmente, non rappresentava altro che la lettera iniziale di Tammuz, e questo segno era usato, nell'adorazione babilonica, 1500 anni prima della crocifissione di Cristo. Do you understand me? quindi Russell, quando si appuntava sul bavaro della giacca, il simbolo appunto della corona e della croce, a voglia che lo sapeva, eventualmente, che questo simbolo chiaramente affondava le sue radici in una notte pagana, diciamo, in una cultura pagana. direi quindi, come dicono i testimoni del loro libro Ricchezza, nel 1936, che per molti anni, rispetto a Tammuz e 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 Tammuz, di Cristo nella morte pagana era diventato non un simbolo cristiano, ma il simbolo della morte di Gesù, e noi possiamo essere altrimenti, come diceva l'Apostolatario, che in questo simbolo. Cerchiamo adesso di comprendere che valore ha il termine pagano per i testimoni di Gesù. Anticipando la conclusione, possiamo dire che per questa organizzazione, pagano è tutto ciò che fa parte del culto di tutte le altre chiese, mentre non lo è ciò che caratterizza da loro. Esaminiamo allora l'attuale copertina della rivista dei testimoni di Giova, l'attuale di Guardia. Dal 31 non vi campeggia più la croce, ma a qualcos'altro, che sebbene si sia sempre un po' più rimpicciolito nelle dimensioni, essendo adesso relegato nell'angolo in alto a sinistra, pur sempre fa la sua bella figura. Si tratta di una torre, il simbolo per eccellenza di questa organizzazione. Se adesso volessimo fare una rapida ricognizione biblica per vedere quale dei due simboli è più pagano e anche più antico, la torre batte la croce, scaccomatto, di molte lunghezze. Perché? Perché nella Bibbia dei testimoni troviamo questa parola per la prima volta nel Libro di Genesi, dove è scritto, ora dissero, su via, edifichiamoci una città e anche una torre con la sua cima nei cieli. Ci troviamo di fronte alla nascita del più antico simbolo pagano della storia, simbolo della ribellione a Dio, dell'orgoglio umano, della prima grande punizione post-diluviana del genere umano dopo la grande catarsi del diluvio noetico, la torre di Babere. Ebbene, è essa che dal gennaio 1895 condivide con la croce l'onora di tutte le copertine della rivista. Cento anni sono che il simbolo più pagano mai elaborato dall'uomo fa la sua bella figura sulla rivista dei testimoni. I quali lo sanno bene di che si tratta, tanto è vero che nel loro più recente celebrato edizionario biblico scrivono, per ordine di Nimrod ebbe inizio la costruzione della città di Babere e della sua torre, probabilmente una sicurat che serviva per la falsa adorazione. Peggio poi che andare di notte con il palo. Eh, non è pagano il palo? Sentiamo proprio sempre i testimoni cosa dicono sul palo. Come riconoscono, su una delle riviste pubblicate esattamente nel 75, scrivono sia le corone che i pali sacri erano simboli del sesso, ovviamente, e per dimostrare che l'odiata cristianità aveva fatto man bassa di questo deprecato simbolo sessuale? In un'altra edizione della rivista dello stesso anno appariva il seguente commento. Che cosa nasconde l'architettura religiosa della cristianità? I superstiti del dilubio universale cominciarono a edificare una città, Babere, e una torre. Quella torre era senz'altro un anzicurato, torre mesopotamica del tempio. La stessa tendenza a costruire alti edifici sacri si riscontrano nelle pagode dell'India, della Birmania e della Cina, nelle torri momentane, nelle guglie delle chiese cristiane. Insomma, croce e palo sono simboli pagani, ovviamente, del sesso, perché tanto baccano intorno al fatto che Gesù fosse messo a morte da pagani, dai romani, perché la condanna a morte non era amministrabile dalla Sinedrio, sul secondo, anziché sulla prima, è tacciare di paganesimo chi non la pensa come il corpo direttivo. Uno dei motivi che appaiono più evidenti è che la cristianità ha sempre considerato la croce come lo strumento della morte di Cristo se fosse stato al contrario. I testimoni avrebbero scoperto che il palo è uno strumento pagano e che Gesù in realtà è morto proprio in croce. Un altro motivo altrettanto importante è che lo scopritore del palo, cioè il secondo presidente della torre di guardia, Rutherford, aveva bisogno di una nuova luce, clamorosa, per relegare sempre più nell'ombra l'uomo dal grande carisma che lo aveva preceduto, Russell, che, come abbiamo visto, soleva ornare la sua giacca con lo stemma e a forma di croce. Aggiungo anche è dotato di una barba notevole. Ho sempre sostenuto che uno dei motivi di avversione verso la barba sia stato proprio questo voler mettere nell'ombra anche questo un po' simbolo legato al carismatico Russell perché ci risulta sempre dalla letteratura da diversi passi che diversi suoi discepoli lo emulavano in questa barba fluente e questo è stato uno dei motivi che mi ha portato al taglio selvaggio di barbe e così parlo Rutherford e così si fece abbasso la croce viva il palo operatore di guardia grazie dell'ascolto ah, dimenticavo aggiungo un'informazione l'affermazione è compromettente per Russell che tradisce la sua conoscenza previa dell'origine pagana di questo simbolo che poi lui tranquillamente invece dall'inizio ha iniziato e continuato ad adottare apponendolo sul bavolo della sua giacca come si vede anche in alcuni filmati recenti della Torre di Guardia ovviamente sulle riviste la scusa è sempre quella dopo ci siamo resi conto che è pagano e quindi abbiamo abbandonato anche questo simbolo in realtà vediamo appunto che già dal 1896 come testimonio a questa rivista il cui testo troviamo dove? questo testo lo troviamo da questo sito che è stato consigliato in alcune risposte private date dalla Betel dice ma come faccio a vedere le vecchie riviste Torre di Guardia che sul sito non le avete caricate chissà mai perché Archive.org vi dà la possibilità di consultare tutte le vecchie Torre di Guardia qui abbiamo ad esempio il testo completo di questa rivista pubblicata appunto nel 1896 state pur tranquilli che qui c'è tutto e ho capito ma io mi devo scorrere tutta la rivista per cercare il passo che tu hai citato no perché ti ho già fatto vedere il trucchetto come si fa per cercare una parola all'interno di un testo ci aiuta Windows con il comando macchina CTRL più F ed eccolo qua io vedo fatto prima già la ricerca con Tammuz che è una delle parole chiave della citazione che vi ho fatto prima dal libro di Pollina quindi andiamo a mettere Tammuz scriviamo e poi invio scusate Tammuz e invio e vi porta proprio guardate oh che bello magia The sign of the cross ok e infatti e questa è proprio la citazione che ho preso prima andiamo a fare copia e incolla quindi un altro comando macchina CTRL più C insieme così fate copia e incolla qui vi ho già preparato il traduttore inserisci testo CTRL più V il segno della croce anche se X la lettera iniziale di Cristo molto presto divenne un simbolo cristiano la croce a forma di T era originariamente semplicemente il mistico Tau la lettera iniziale di Tammuz e questo segno era usato nel culto babilonese e blasonato su paramenti babilonesi 1500 anni prima della crocefessione di Cristo quando scrive questo Russell ok finito magari di scrivere questo articolo poi è andato all'adunanza apponendosi sul bavolo della giacca appunto la spilla che si vede anche in un film appunto recente commemorativo su Russell della croce quindi lui sapeva benissimo l'ambito ovviamente culturale in cui certi simboli sono nati ma senza sua colpa Cristo e senza nostra colpa Cristo è stato appunto crocifisso cioè apposto su uno strumento di tortura molto probabilmente troppe cose ci portano a dedurre che la forma era appunto di due pali incrociati e che quindi casualmente ovviamente accidentalmente formano questo simbolo usato anche data la sua composizione anche per indicare appunto non solo l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico ma anche l'iniziale del Dio Tamuz ma Russell lo sapeva già 1896 l'ultima l'ultima l'ultima